Che arca ha quantomeno tre vite, no? Perché è rinatta due volte. Prima avevi detto trovato un vaso di fiori sul carso a tuo papà, nel senso che era una barca ormai dismessa e l'hai riportata non solo alla vita ma alla vittoria. Poi avete addirittura rischiato di affondare vicino a Ponza, se non sbaglio, e ancora una volta, diciamo così, siete pronti? Diciamo che questa non l'abbiamo cercata, no? C'è stata una collisione con un oggetto sommerso, non si capisce se è una balena piuttosto che una retta abusiva e quindi questa stavamo viaggiando, 17 nodi, comunque per una barca è una velocità importante, una barca di quelle che navigano, di quelle che volano, quindi diciamo che quando è successo, sì, questa barca è come i gatti, ha sette vite. Quest'anno, ripeto, c'è Women in Sailing, quindi mia figlia ha 16 anni probabilmente una condizione buona sarà la timoniera. Ah, quindi mogli il timone alle rede? Sì, non in partenza perché la partenza è veramente complicata, quello è complicato, allora bisogna saperla fare e non far danni soprattutto. Certo, allora se fai questo significa che l'hai già testata in situazioni del genere, che emozione è stata però vederla per la prima volta al timone su una barca di un certo tipo? Beh, guarda lei con me è venuta a fare, credo, la barcolana, due o tre barcolana, fatele ha vinte, quindi perché insomma la barcolana ti permette questo e vederla timonare un centopiedi a 16 anni l'ho invidiata, perché io a 16 anni me lo sognavo, una cosa del genere. No, è una bella soddisfazione, da padre è una bella soddisfazione. Certo, insomma, poi un'eredità che va avanti, no? Da papà a voi. Sì, difatti speravo, vediamo le condizioni meteo, che non sarebbe male che venisse anche mio padre, che ormai ha 82, va per 83 anni, è stato lui l'artefice di tutto questo, della nostra vita, sia di mia che di mio fratello, per cui mi piacerebbe riuscire a portare lui e mia figlia e poi vedere un attimo.